Inizia la seconda parte del secondo tempo San Gataldese Campofranco con il risultato di 1 a 0 gol di Enrico Maniscalco. La seconda parte del secondo tempo San Gataldese Campofranco con il risultato di 1 a 0 gol di Enrico Maniscalco con il risultato di 1 a 0 gol di Enrico Maniscalco. San Gataldese Campofranco San Gataldese Campofranco con il risultato di 1 a 0 gol di Enrico Maniscalco con il risultato di 1 a 0 gol di Enrico Maniscalco. San Gataldese Campofranco con il risultato di 1 a 0 gol di Enrico Maniscalco Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.